Ogni anno con la Radiazza e con il Gambrinus abbiamo voluto ricordare Pino Daniele, perché per noi Napoli è Pino Daniele e Pino Daniele è Napoli, un legame indissolubile ed eterno. Oggi girando per la città si sente in ogni vicolo, in ogni strada la musica di Pino Daniele, si vedono i posteri, i murales, è tutta Pino Daniele, ma è tutto l'anno. Purtroppo questo è un triste evento perché in questa giornata Pino Daniele ci lasciò, ma ci ha lasciato soltanto il suo corpo perché la sua opera e la sua essenza rimane totalmente nella nostra città. Non credo che ci siano altri artisti al mondo che hanno suscitato l'emozione popolare che ha suscitato e continua a suscitare Pino Daniele. David Bowie, George Michael hanno avuto successi planetari, ma a Napoli Pino Daniele è più del più grande cantante che possa essere esistito sulla faccia della terra perché l'abbiamo sentito nostro al 100%. Ancora oggi con questi piccoli gesti, cioè il regalo di un dolce realizzato e distribuito gratuitamente dal Gambrinus, il Pinuccio e un poster con sovrascritto Pino io ti penso ogni giorno l'abbiamo voluto ricordare. Perché la verità è che ogni giorno tra i vari pensieri brutti e cattivi che ci possono essere nella testa di un napoletano c'è sicuramente Pino Daniele.